L'ora è finalmente arrivata, ma solo uno dei grandi calciatori del nostro tempo potrà essere incoronato vincitore. Dieci sono già stati nominati, ma solo uno tra loro potrà vincere uno dei premi più prestigiosi del mondo del calcio. Segui il tuo eroe del Golden Foot in azione e vota per il tuo campione su goldenfoot.com.